Non riuscirebbero a parlare. Come si può usare l'energia sessuale oltre al modo conosciuto? Commento Nel modo genitale l'energia sessuale, una volta scaricata, continua a premere in continuazione. Chi ha superato per evoluzione raggiunta il momento genitale, un momento molto difficile, può riunire nel corpo fisico senza scaricarla in modo equilibrato l'energia sessuale che proviene dal piano astrale, dal piano mentale e dal piano della coscienza. Pervadendo tutto l'essere, questa energia procura nell'individuo un lucido benessere che gli fa percepire la realtà in maniera più intuitiva, più aperta, più creativa. Come accade a certi artisti e maestri che, attraverso l'incanalamento dell'energia sessuale, riescono a fare e a dire delle cose superumane per chi non conosce la realtà delle cose. Per fare un esempio, se un grande strumento fermasse la sua energia sessuale a livello semplicemente genitale, i maestri non riuscirebbero a parlare tramite lui.